Assessore, col gel igienizzante in mano, quello che è stato donato dal Rotary agli istituti scolastici di Cunia, del territorio cunese, un gesto importante in un momento difficile di ripartenza della scuola? Sicuramente, è un'occasione per condividere questo tempo, questo passaggio, questa riapertura e quindi per noi è importante che tutta la società si faccia carico dell'impegno reciproco per rendere condizioni che siano fruibili e che consentano davvero una riapertura in sicurezza. E quindi è un'occasione importante, io ho ringraziato questa mattina a nome dell'amministrazione i club Rotary che hanno fatto questa proposta e davvero è un punto di partenza che ci rassicura, quindi davvero grazie a tutti loro.